Zero contagi era merito di De Luca, 100 contagi la colpa è dei cittadini, è questa l'ipocrisia di un Presidente della Regione che ha scambiato la comunicazione spiritosa per il governo della nostra realtà, il Kenya, accettabile in un momento come questo in cui arrisca sia la salute che l'economia.